Risale al dicembre 1959 la prima edizione della Fiera del Gelato, la manifestazione fieristica internazionale che ogni anno, all'inizio dell'inverno, richiama gelatieri da tutte le parti del mondo. Per quei giorni capitale mondiale del gelato artigianale. Ice Team si presenta con due marketing storici raggruppati che è Cold Elite e Cattabriga, ci rivolgiamo ai mercati internazionali, siamo uniti dal 2010 e oggi possiamo dire che abbiamo più che altro raddoppiato il nostro fatturato e siamo su 21 milioni di euro. Ora siamo in numero 2, l'obiettivo è diventare il numero 1 del mercato e posizionarci in vetta alle classifle per il gelato artigianale, rilanciando un marchio storico quale è Cattabriga che è nata nel 1927 e il prossimo anno fra i 90 anni. Cold Elite è già leader del mercato del mercato tedesco con la macchina combinata e rappresenta una realtà importante per i gelatieri artigiani perché non dimentichiamoci che il gelato è artigiano.